spero di sì dingo guarda se monta la pianta c'è Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mamma mia! Devo controllare che ci sia tutta? Eh, controllare che ho preso tutta perché poi non me lo va a rompire le palle, eh. La pancetta ne pesa? Sì. Ok, i succhi, le pizzette. Sì. Parmigiano? Sì. Per due? Sì. Parmigiano ce ne ho uno? Due, due. Birre, gassosa, tonno. Dai, ci sta tutto. Parmigiano io ne vedo uno. No, ma no, ma è impossibile. Mo' esci pure te. Eh, devi aspettare, Lula. Eh, siamo arrivati adesso. Devi aspettare. Dammi il tempo di fare le cose, con calma. Inolio. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. a ridaglie lui la devi aspettare la pianti? la pianti? la pianti da baiano? cioè non lo so che sta a fare 30 anni 30 anni mica lo capisce che dovete uscire pure voi no non lo capisce mamma mia allora parmigiano vai a mangiare tutto ehi dammi quei 2 euro prenditi dalla stanno la vai vai torna vincente si mangia? torna vincente? si mangia? oh cucino quale mascherina? pure pesci? certo tutto in lazio siamo nel lazio siamo nel lazio qua? bu? si eh bu 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 a dingo te stai zitto stai sempre a chiacchierare uno che porta a bevete lasciateci un po' tranquilli si famo una bella pasta con il guanciale una criccia dai famose una criccia una cricetta al volo hai comprato il pecorino? ho comprato il pecorino e il parmigiano te sta bene? è vero pure il pecorino parmigiano, parmigiano vabbè parmigiano vingo so tre ore che stai a bagliare mi stai a stupare stai aperto che devi fare? mangiare qualcosa perché stai lì mamma? perché stai là laghi? che pasta metto? è una brisola orecchiette qua e vive le penne e mezze manchi che stanno bene e mezze manchi dai dai basta da spingi ma quanti gradi fa 29 gradi e 7 ancora un po cruda il piatto buon appetit lo mangiamo dentro di vassoi ma non è male no giusto questa pancetta è un po' così la pancetta è quella che è ma non era malaccia però no si poteva fare meglio ma mangiabile i pattini ah gaeta gaeta credo che sia l'unico paese in italia che ha due borghi medievali uno si chiama borgo dei pescatori e l'altro il classico borgo medievale sanghera c'è stava una pozzanghera c'è entrato dentro proprio ammazzate chi sei arco giraffa reggina cieli piccoletta sorcio albero e lento e lento grazie a tutti